Ma ci sono dei criteri in base ai quali voi medici decidete quali di questi tipi di dialisi scegliere? Certamente, ad esempio nel bambino è preferibile la dialisi peritoneale, nell'anziano poiché ha una capacità vascolare, scarsa capacità di adattarsi alla sottrazione dei liquidi che avvengono con la dialisi, anche nel paziente diabetico, ma poi c'è anche l'idea, la volontà dell'individuo stesso di fare o l'uno o l'altra dialisi, a cui deve essere prospettata. Che cosa fanno questi due tipi di dialisi? Praticamente l'ammalato che ha l'insufficienza renale, una fase oramai avanzatissima al quinto stadio, non urina più. Quindi tutta l'acqua che introduce, che beve, o quella degli alimenti, l'acqua negli alimenti è altissima, ecco, quest'acqua non l'eliminia più, l'accumula nell'organismo. Mediante la dialisi extracorporea o mediante la dialisi peritoneale si sottrae quest'acqua, si purifica il sangue dalle scorie che i regni non più funzionanti sono incapaci di eliminare e si danno delle sostanze come il calcio, come il bicarbonato, di cui l'organismo è calente proprio perché non c'è più questa funzione renale. Ma meno male che c'è la dialisi. Lei ha parlato anche di bambini. Che incidenza, che numero per i bambini c'è in questa patologia? Dunque, gli adulti siamo intorno ai 150 pazienti per milioni di abitanti che ogni anno hanno bisogno di fare la dialisi extracorporea. Sono i pazienti incidenti, cioè i bambini fortunatamente sono molto di meno. Insomma, diciamo che ogni anno potranno essere due o tre bambini che hanno bisogno di fare la dialisi, però esiste questa patologia. E la dialisi, sia peritoneale che extracorporea, impedisce la crescita e quindi è un grosso handicap per i bambini. Volevo solo aggiungere, vedere tre volte alla settimana, quattro volte al giorno la dialisi e per la persona che sta bene sembra una cosa immane. Io in genere uso un'espressione abbastanza forte, ma che trovo estremamente calzante perché al paziente bisogna dire la verità, le cose nella loro giusta concretezza e realtà. Certamente la dialisi è un impedimento, sia l'extracorporea che la peritoneale. Penso di averlo spiegato tre volte alla settimana per quattro ore, tutti i giorni, mezz'ora è vero, ma tutti quanti i giorni, anche a Natale, a Capodanno e così via. Però se non c'è la dialisi, quell'individuo è morto. E allora tra la morte e la dialisi, io direi, se io mi dovesse augurare a me stesso una malattia, dico, vabbè, l'insufficienza renale, la dialisi, cercherò di prevenirla, però poi alla fine non è la fine, come purtroppo tante altre malattie che interessano l'umanità in cui poco o nulla c'è da fare. Parole sante, parole giuste. Entriamo invece un po' più nel concreto. Per quanto riguarda, appunto, Dottor Donofri, i vari tipi di dialisi, vediamo un po' le valutazioni dal punto di vista organizzativo ed economico. Come diceva il professore Federico, dobbiamo fare una duplice riflessione. In Campania la dialisi fondamentalmente viene gestita dal privato accreditato. Vi sono circa 28 centri pubblici, ma ce ne sono oltre 150 che sono quelli privati accreditati. Quindi sta a significare che vi è una vasta e capillare diffusione sul territorio. Se pensiamo ai dati che il professor citava, che in Campania ci sono circa 4.800-5.000 dializzati con un arruolamento ogni anno di circa 150, avere circa 180 centri di dialisi è significativo. È chiaro che non solo sono centri, ma poi vi è un numero di posti letto. Quindi consideri che la più piccola dialisi ha almeno 4 posti letto. Generalmente sono 6, 8, 12, quindi stiamo parlando di un moltiplicatore. Per cui se ne pensi che c'è 80 posti di dialisi, consideri una media di 6 posti letto per dialisi, si trova intorno almeno a circa 1.200 posti di dialisi. Quindi a quel punto lì basta ribaltare sui 4.500 a significare che il turnover di tre volte alla settimana e garantita a tutti quanti. Ci sono due aspetti da considerare. E lo dico anche dall'ex direttore di ASL. Ovvero sia l'importanza che non vi sia un aspetto così in automatico di non valutazione tra l'una o l'altra. Perché è vero, come dice il professor Federico, che ambe e due le tipologie hanno dei loro momenti di convenienza o di difficoltà. Però è anche vero che in termini di quella che è la gestione del malato la dialisi peritoneale è più vantaggiosa. Nel senso che non c'è il problema di avere l'infermiere, non c'è il problema di avere un'organizzazione la quale preveda centri specifici che chiaramente richiedono un certo numero di personale. Tant'è che anche il costo che prima il professore significava, che è l'equivalente di 170 euro per prestazione, ovviamente è ribaltato sulla dialisi di natura extracorporea, perché ha a che vedere non solo con il costo dei materiali e del personale, ma anche dell'ammortamento della struttura. Qua stiamo ai Damiani, mi permette una battuta, certamente il Damiani rispetto a quello che mi ricordo, io ho mancato da molti anni qui, però ha avuto una ristrutturazione. Ciò per gli imprenditori determina la necessità di un ammortamento nel corso degli anni, che entra come quota parte del dato economico da dover comunque recuperare. Idem per chi nel privato accreditato ha un centro di alisi, ovviamente dovendo rispettare quella che era la normativa 7301 del 2001, una regione campagna che prete dei requisiti molto specifici, anche il professore Federico prima citava il fatto della sepsi, il fenomeno che chiaramente richiede certe condizioni, come dire, anche ambientali, ambientali in cui non vi siano certamente possibilità di essere infettati, sa significare che tutto questo ha un costo e questo costo ovviamente si ribalta rispetto a quello che è giustamente il pubblico che deve soddisfare questa necessità. Seconda riflessione è quella che potremmo collegarci al discorso di prima della necessità della prevenzione. Il professor Federico mi ha citato il discorso dell'arruolamento in dialisi, sia extra corporea sia per idoneale, secondo dei coefficienti. Però ha anche detto che il gap o il delta, tra i momenti in cui si deve arruolare in dialisi, i momenti in cui invece c'è il campanello d'allarme abbastanza ampio, parliamo che l'arruolamento in dialisi è meno 10% della funzionalità renale, parliamo che il campanello d'allarme è 40-50%, quindi sta a significare che una fil rouge, o se preferito un layout, come dicono gli inglesi, cioè una correlazione continuativa nel processo di valutazione della persona, permette di avere un ampio margine per poter prevenire questo elemento poi di terapia estrema. Bene, invece professore arriviamo al momento successivo a quello della dialisi, il trapianto renale, che è forse la fase ultima di intervento, e un po' magari fare la differenza fra il donatore vivente o il donatore che non è più vivente, insomma, da cadaveri. Certamente, volevo solo fare una precisazione, non ricordo se l'ho detto, ma la dialisi peritoneale si fa a casa, l'ammalato lo fa in maniera autonoma, non l'avevamo detto, allora questo è molto importante precisare. Questo lo ha tirato come fatto in un'altra parte. Esatto, ecco, e infatti il risparmio è un terzo il costo della dialisi peritoneale dal punto di vista economico. Quindi lo si fa a casa la dialisi peritoneale, l'ammalato è autonomo, ha queste sacche per la dialisi, gli vengono portate dalla ditta e quindi lo fa in maniera autonoma. Per la dialisi extracorporea deve recarsi presso il centro, dove sono gli infermieri, le attrezzature, e che però può anche essere visto come un momento di un club. Io molte volte lo dico agli ammati, andate al club, ecco, si va a giocare a carte, come qua vedo tante stimatissime persone, e lì purtroppo bisogna andare a fare la dialisi, però si guadagna la vita. Ma finiamo con la dialisi. Lei parlava del trapianto. Il trapianto non è un momento successivo alla dialisi. La terapia dell'insufficienza renale allo stadio più avanzato, la dialisi peritoneale, la dialisi extracorporea, il trapianto renale. Il trapianto renale lo si può fare anche prima di andare in dialisi. È un problema di donatori. E qui casca l'asino. I donatori. I donatori può essere da vivente, cioè un familiare, ma anche un estraneo, purché non vi sia alcun compenso, alcuna tracciabilità di qualsiasi cosa. Non so, anche il regalo di una bibita, e di questo si accerta nel trapianto da vivente, il giudice. Quindi bisogna studiare bene all'ammalato che deve ricevere il trapianto, si deve studiare bene il donatore, in genere è un familiare, in genere è la mamma, perché la mamma sono quelle molto più sensibili, devo dire, anche rispetto ai padri. La mamma, ma anche mamma anziana, ovviamente di 50, 60 anni, che hanno figli di 30, 40 anni, che sono in dialisi. Allora si può fare da vivente, e il donatore appunto è un familiare. Oppure da donatore cadavere. E qui si deve aprire una grossa parennesi, cos'è il donatore cadavere. È un paziente che, dopo un incidente automobilistico, di moto, o dopo un ictus, ricoverato in ospedale, quindi ricoverato in ospedale, in reanimazione, o in neurochirurgia, va in morte cerebrale. Cioè, tutto il suo cervello non funziona più, fuori che il nucleo, che è il più basso, rispetto al midollo spinale, che è il nucleo che fa battere il cuore. Lui non respira nemmeno, solo perché è assistito dal respiratore, non ha più assolutamente attività elettrica, che si rileva come elettrocardiogramma con l'elettroencefalogramma. Ecco, non ha più attività elettrica, non vi è alcuna possibilità che questo individuo riprenda a vivere perché il suo cervello è morto. Non è il coma, non è cioè l'ammalato che è in coma, ma sente la musica del cantante, sente la voce della mamma. Quello non è morte cerebrale, quello è coma, a vari livelli, ma non è la morte cerebrale. E la morte cerebrale viene accertata da un team di un medico legale, di un rianimatore, di un anestesista e della direzione sanitaria, il quale per sei ore verifica che l'assenza del respiro, cioè si stacchi il respiratore e si verifica che il paziente non respiri e ci siano i segni clinici della mancanza di ossigeno. Non solo, ma si tocca la cornea dell'occhio con un tamponcino, comunemente chiude l'occhio, chiude le palpebre. Questo riflesso non c'è. E tanti altri riflessi che non mi voglio diluncare. Questo significa che se noi tocchiamo la cornea, parte un impulso, arriva al cervello e fa chiudere l'occhio come difesa. Questo è un atto involontario, come quando va un moscerino nell'occhio. Ebbene, questo riflesso, proprio perché il paziente è morto cerebrale, non esiste più. Allora, tutta questa quantità di dati servono a dimostrare che l'ammalato è morto cerebrale. L'osservazione avviene per sei ore, per sei ore questa commissione verifica che non esiste più vita cerebrale nell'ammalato, batte il cuore, questo sì, e dopodiché si procede se c'è l'assenso dei familiari, ma non ce ne sarebbe bisogno, ma soprattutto a Napoli questo è impossibile, perché molte volte ci è capitato di sentire dire non vi permettete di toccare. E quindi uno chiede, ci sono delle persone che hanno capito questo problema e ci sono tanti esempi in cui offrono la donazione degli organi di questo paziente in morte cerebrale e allora quel paziente in morte cerebrale rivive, rivive non solo per i deni, ma rivive con il cuore in un ammalato che ha bisogno di un trapianto cardiaco, in un paziente che ha bisogno di un trapianto di fegato, di pancreas, di polmone, di arteria, degli occhi, quanti di noi potremmo donare le corne, perché non tutti possono essere donatori di organi, ma le corne le potremmo donare la maggioranza e invece questo non lo facciamo e quante persone invece hanno necessità di un trapianto di corne per poter riacquistare la vista e quindi abbiamo visto donatore da cadavere e donatore da vivente. Ho anche detto prima che il trapianto lo si può fare prima della diarsi, certamente ed è meglio perché il paziente ovviamente non ha tutte le patologie che poi possono sorgere con la dialisi stessa oppure lo si può fare dopo. Ma qual è l'entità del fenomeno? Ebbene in Italia si fanno 1700-1800 trapianti di rene all'anno ma i pazienti in lista per il trapianto sono 6800 ovviamente se ne fanno 1700 ma ne vengono dei nuovi quindi non è una bilancia che si equilibria ciò dimostra come il trapianto renale non è offribile a tutti proprio per mancanza di donatori e ho detto che i pazienti in lista per il trapianto sono circa 7000 ma 50.000 sono in dialisi e che dà un altro indice che non tutti i pazienti possono fare il trapianto renale. se c'è una vecchietta di 80 anni cardiopatico ovviamente diabetico con tutta la patologia di questa età che c'è